tabernacolo monumentale tu come lo segni io lo segno così perché i tabernacoli monumentali erano delle grandi strutture votive affrescate con storie della vergine di cristo dei santi o con altre immagini sacre poste in luoghi di passaggio lungo le strade a scopo devozionale ovvero per l'adorazione da parte dei fedeli grazie a tutti